Quando si devono organizzare videoconferenze o riunioni online potrebbe essere utile inviare ai partecipanti il flusso video proveniente da una telecamera collegata con il pc e alternativamente da altre videocamera. Potrebbe essere utile usare la webcam del pc o una telecamera più professionale puntandola verso di sé, vedere anche webcam portatile. Due punti verificarne il funzionamento in Windows 10, ma puntare anche un'altra telecamera sulla scrivania, per mostrare cosa c'è sul tavolo e usarne una terza per inquadrare la stanza o, ad esempio, una lavagna. Tutte le piattaforme per le videoconferenze, Google Meets, Microsoft Teams, Zoom e così via, permettono di scegliere quali sorgenti di input utilizzare. Passare da una telecamera all'altra si può certamente fare ma si verificano sempre dei momenti di buio trasferendo lo streaming tra le varie sorgenti. È inoltre molto sentita anche l'esigenza di trasmettere il desktop del pc, ancora una volta le varie piattaforme consentono di farlo. Come condividere lo schermo in Microsoft Teams e Google Meet, ma non si riesce a trasmettere sia il segnale proveniente dalla webcam che i contenuti dello schermo. Ecco perché in molti, per questa specifica esigenza, si collegano alla videoconferenza con due dispositivi. Dal primo si effettua la condivisione del desktop, dall'altro, ad esempio sfruttando la migliore videocamera dello smartphone, ci si inquadra.